E bella boys benvenuti su questo nuovissimo video Ragazzi avete sentito del nuovo metodo per supportare noi content creator? Cosa? No? Te lo spiego subito io Allora in sostanza basterà andare su item shop E nell'angolino in basso a destra dove hai il tuo rettangolo con scritto supporta creator Basterà cliccare su questo rettangolino e scrivere all'interno il mio nome ovvero Croato In sostanza ogni volta che shoppate qualcosa appunto nello shop Supportate anche me indirettamente Quindi ovviamente è un modo per appunto supportarmi Inoltre ragazzi voglio anche ricordare che mi trovate in live streaming ogni giorno Dalle 15 alle 18 e dalle 21 alle 2 di notte E trovate il link della mia live streaming ragazzi nel commento di ogni mio video E anche appunto nella descrizione Detto questo ragazzi godetevi il video Grazie ancora per il supporto E let's go baby All right brother Sì come sta la simmer mod Ho coperto anche il codice Ho coperto tutto Voglio evitare tutto il possibile Sorry brother Le kills boys Voglio le kills Sì Nemico avistato Oh my god Oh my god Tre punti baby Bronze ti conviene Ti conviene fare select game mod E originare Ho dovuto fare la stessa cosa anch'io Oh my god No brother No brother No brother No brother Bello campero nel bush comunque Nel 2018 by the way So good Due punti Regà giuro che non ho capito da dove Mi sto cagando in mano Paura cazzo No il barrette no regà No mi prego please no No bro Regà dove cazzo è? The fuck No brother No brother No 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 oh my god sorry brother top 3 baby top 3 baby hee 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 no 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 Let's go Baby Easy win Vieneci che il boys